Se adesso io ti dico che la spinta di Archimede mi sta aiutando a camminare in salita tu probabilmente fai una faccia così ma va, ma figurati, ma che stai a dire, ma tu sei fuori beh, allora sei decisamente sul video giusto ho già parlato della spinta di Archimede in un altro video però oggi lo farò in maniera un pochino più approfondita e perché lo faccio qua? Beh, perché sono il prof di montagna il principio di Archimede è abbastanza semplice l'hai studiato già dalle medie, l'hai sentito nominare un sacco di volte non voglio partire dall'enunciato di questo principio però voglio fare un ragionamento con te ok, cominciamo con un po' di immaginazione a fare un piccolo ragionamento con questo sasso in questo momento io per tenere questo sasso a questa altezza devo fare una forza verso l'alto, altrimenti il sasso cade, ovviamente, perché ha un peso adesso facciamo finta che il sasso di colpo sparisca io in questo momento non ho più il sasso in mano non sono più costretto a spingere qualcosa verso l'alto però qualcosa tra le mie dita c'è lo stesso c'è l'aria quest'aria prima era stata spostata dal sasso adesso è potuta tornare al suo posto perché il volume del sasso non è più occupato dal sasso e chiediamoci, ma l'aria ha un peso? naturalmente sì, l'aria pul piccola ha una massa quindi col piccolo volume di aria comunque avrà una piccola forza peso che la spinge verso il basso ma se quel gruppetto di molecole d'aria ha un peso perché non ha bisogno che io lo tenga per stare su? la risposta è che c'è l'aria intorno che la sostiene cioè immagina una forma di sasso fatta di aria circondata dall'altra aria quindi l'aria in qualche modo sostiene un piccolo peso quindi lo fa anche con me perché se mi tolgo da qui ecco in pratica in questa parte c'è aria a forma di me quell'aria è tenuta su in piedi dall'aria che c'è intorno questa cosa funziona con tutti i corpi quindi vuol dire che sì questa spinta che arriva da chissà dove dopo vediamo da dove arriva mi sta aiutando a salire perché mi spinge verso l'alto mi toglie un pochino di sforzo per portare sul mio corpo naturalmente lo stesso ragionamento che abbiamo fatto col sasso lo possiamo fare con sempre un sasso immerso però in qualcos'altro per esempio nell'acqua se lo immergiamo nell'acqua lui sposterà una quantità di acqua e quella quantità di acqua prima di essere spostata dal sasso chi la stava tenendo su? l'acqua che la circonda nel momento in cui il sasso appare al posto dell'acqua l'acqua che la circonda non può ragionare e capire che è successo qualcosa esercita sempre la stessa spinta e infatti la spinta di Archimede si chiama anche spinta idrostatica proprio per questo la parola idro sta a significare acqua statica vuol dire che sta ferma cioè è l'acqua che tiene ferma l'acqua stessa in pratica io lo interpreto così anche se questo termine può essere fuorviante e per molti lo è perché con il termine idrostatico noi sembra che ci possiamo riferire solo all'acqua quando invece ovviamente questa spinta funziona per qualsiasi liquido e per qualsiasi gas quindi qualsiasi fluido e quindi arriviamo all'enunciato vero e proprio quello che conoscevi già ma adesso ci siamo arrivati ragionandoci in pratica il principio di Archimede dice un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato questo modo di formulare il principio è geniale perché contiene innanzitutto la parola fluido e non liquido e poi per una cosa che mi piace molto utilizza la parola peso e se ne frega della parola massa questo per un motivo molto semplice prima di tutto se dobbiamo paragonare una spinta a qualcosa dobbiamo paragonare una forza con un'altra forza quindi una forza è il peso non sicuramente una massa ma la cosa più interessante che è nascosta in questa formulazione è che utilizzando la parola peso si sottointende la presenza di un campo gravitazionale perché in assenza di campo gravitazionale un corpo immerso in un fluido non riceve nessuna spinta prima di tutto perché dal basso verso l'alto perde significato e secondo perché parliamo di acqua l'acqua che circondava il sasso prima di essere diciamo tolto questo sasso e che sia tornata l'acqua al suo posto beh non stava spingendo il sasso proprio da nessuna parte perché il sasso anche senza acqua in assenza di forza gravitazionale sarebbe rimasto fermo al suo posto quindi la cosa bella la ripeto ancora è che questa formulazione non ha bisogno di dire un corpo immerso in un fluido in presenza di un campo gravitazionale non ha bisogno di dirlo perché se parla di peso è sottointesa questa cosa adesso noi ci facciamo gli ultimi 200 metri di dislivello e poi cerchiamo di capire perché esiste questa spinta devo cambiare un attimino assetto pronti? ah sto meglio parliamo di spinta idrostatica adesso vediamo da dove arriva questa spinta perché abbiamo capito come funziona ma perché succede una cosa del genere non è tanto chiaro nel discorso dobbiamo introdurre il concetto di pressione la pressione in fisica è una forza fratto una superficie se io faccio una forza su una superficie piccola ottengo una grande pressione se questa stessa forza la faccio su una superficie più grande la pressione è minore la pressione si misura in pascal e la pressione è una caratteristica molto importante quando ci troviamo proprio immersi in un fluido adesso che sono in mezzo all'atmosfera mi trovo in una certa pressione la pressione atmosferica appunto che è leggermente inferiore a quella che posso trovare magari sul livello del mare qua siamo a 2200 metri e ho una pressione leggermente minore perché? perché sopra di me ho meno aria rispetto a quando sono in pianura e questo che c'entra? c'entra perché in pratica la pressione che io sto subendo è proprio il peso dell'aria che ho sulla testa ma perché allora questo peso dell'aria che ho sulla testa non mi schiaccia proprio verso il basso? beh perché la pressione ha un comportamento molto particolare che è determinato da un principio che si chiama principio di pascal che dice che in pratica agisce sulla superficie di un corpo in tutte le direzioni perpendicolarmente alla superficie stessa quindi questa forza che io subisco da parte dell'atmosfera la subisco da tutte le direzioni quindi non vengo schiacciato dall'alto verso il basso la stessa cosa succede al sasso quando è immerso nell'aria quando è immerso nell'acqua eccetera eccetera subisce una pressione questa pressione oltre a essere appunto particolare perché appunto agisce in tutte le direzioni ha anche un'altra caratteristica aumenta man mano che andiamo in profondità come succede per l'atmosfera anche nell'acqua più andiamo in profondità e più aumenta il fatto è che aumenta gradualmente anche a livello microscopico cioè anche solo muovendosi di un centimetro in verticale noi troveremmo se riuscissimo a misurarla una piccolissima differenza di pressione e la chiave è proprio qua un corpo immerso in un liquido subisce una pressione in tutte le direzioni ma nella parte più bassa di questo corpo la pressione è leggermente più alta quindi a parità di superficie la forza è leggermente più alta questo comporta uno squilibrio fra tutte le forze che ci sono tutto attorno al corpo che fa vincere in qualche modo la forza che spinge dal basso verso l'alto e di quanto vince guarda caso proprio della spinta di Archimede perché la spinta di Archimede è proprio questo quindi sì anche un oggetto minuscolo comunque ha sicuramente un volume quindi per come lo possiamo girare possiamo girarlo come vogliamo noi ma comunque ci sarà sempre una piccola differenza fra sopra e sotto differenza di pressione ovviamente questa differenza c'è se siamo in presenza in un campo gravitazionale come dicevamo prima altrimenti la pressione non cambia e infatti per esempio nei moduli della stazione spaziale internazionale dove c'è una pressione di circa un'atmosfera comunque non avviene il principio di Archimede perché appunto in realtà questa pressione è uniforme è davvero uniforme perché è vero siamo in presenza in un campo gravitazionale ma la ISS è in caduta libera quindi è come se non ci fosse gravità di conseguenza non c'è questo differenziale di pressione tant'è che in effetti non c'è neanche il concetto di alto o basso adesso il sole si sta tramontando quindi la prossima parte del video sarà un pochino buia però guarda che meraviglia c'è una luce pazzesca e cosa succede quando la spinta di Archimede supera la forza peso? beh semplicemente si sale perché in pratica siamo in presente di due forze due forze vettoriali naturalmente che hanno la stessa direzione ma verso l'opposto per cui si fa la sottrazione e vince in pratica la forza maggiore in questo caso se la forza maggiore è la spinta idrostatica spinge verso l'alto e noi veniamo spinti verso l'alto e quando è che succede che in pratica vince la spinta idrostatica sulla forza peso beh guardando il principio come l'abbiamo visto e enunciato prima la spinta idrostatica è pari al peso del fluido spostato quindi se il fluido spostato pesa di più del corpo che abbiamo immerso in questo fluido allora vincerà proprio la spinta verso l'alto e il corpo se è libero di muoversi salirà in aria questa cosa succede per esempio quando vedi decollare una mongolfiera il fatto è che la mongolfiera comunque ha una sua massa ha un suo peso però sposta moltissima aria che anch'essa ha un suo peso e riesce a spostare un peso maggiore di aria del proprio peso perché la sposta con dell'aria calda che si è espansa quindi ha una densità minore la parola densità è importante anche un palloncino gonfio di elio per esempio sale perché l'elio è molto molto meno denso dell'aria per cui il palloncino gonfio sposta una certa massa di aria mettiamo non so 20 grammi di aria ma esso stesso ha una massa totale magari di 15 grammi per cui le due forze in pratica non si equivalgono vince di nuovo la spinta verso l'alto e il palloncino sale e prima di soffermarci su questa cosa della densità naturalmente parliamo un attimo anche della spinta idrostatica in acqua perché ovviamente essere spinti verso l'alto in acqua è una cosa che abbiamo provato tutti e proviamo ogni volta che usiamo un mezzo nautico per esempio perché in pratica quando la spinta verso l'alto fa raggiungere al corpo immerso la superficie dell'acqua o del liquido in generale beh si a un certo punto si trova un equilibrio su questa superficie questo equilibrio si chiama galleggiamento e consiste nel fatto che il corpo è in parte immerso nel liquido e in parte no e la parte immersa nel liquido è determinata da una regola molto semplice quando il corpo in pratica riesce a spostare una quantità di fluido pari alla propria massa in quel modo il peso dell'oggetto e il peso del fluido spostato saranno esattamente identici i vettori avranno verso opposto e modulo uguale quindi si annulleranno siamo in presenza di una situazione di equilibrio i vettori si annullano la forza totale è zero e il corpo rimane fermo galleggia ho detto che la densità è importante dal punto di vista complottistico perché ho sentito dire da diverse persone che non credono che esista la forza di gravità fidati che è così che in realtà le cose stanno su o giù semplicemente perché hanno diversa densità questa è una cosa che fa abbastanza ridere perché in effetti è vero cioè la densità c'entra e come ma per tutti i motivi che ti ho detto fino adesso con la densità noi possiamo calcolare la massa di un corpo sapendo il suo volume poi oltretutto con la densità possiamo calcolare anche la pressione che abbiamo all'interno di un fluido a seconda della profondità alla quale ci troviamo all'interno di questo fluido quindi ovviamente la densità conta la densità si misura in chilogrammi al metro cubo stiamo parlando di volumi stiamo parlando di masse che sulle quali agiscono delle forze peso ci mancherebbe che non conti la densità per finire un ricordo a mio padre a quale sono legato sia per la montagna ma anche per il mare per l'apnea lui andava tantissimo sott'acqua e me l'ha insegnato e tra le cose che mi ha insegnato prima ancora che io imparassi che cos'è la fisica è usare il giusto numero di piombi si usa una cintura con i piombi proprio per avere una densità più simile possibile a quella dell'acqua perché altrimenti il corpo umano ha una densità abbastanza minore rispetto a quella dell'acqua quindi tende a galleggiare per cui andare sott'acqua è abbastanza faticoso senza questi piombi mentre invece con 1-2 kg di piombo nella cintura appunto si diventa abbastanza neutri e quindi si scende con relativa facilità ma l'altra cosa importante che mi ha insegnato che riguarda proprio la sicurezza dell'apnea è che mano a mano che si scende questa nostra differenza di densità cambia perché in realtà il corpo umano è composto da diverse parti soprattutto di acqua naturalmente però all'interno contiene i polmoni gli alveoli polmonari che ovviamente andando sott'acqua devono essere pieni l'aria è comprimibile quindi mano a mano che si scende sott'acqua la pressione esterna aumenta e i polmoni vengono proprio compressi quindi il volume totale del corpo diminuisce diminuendo il corpo di volume in pratica sposta meno acqua e riceve verso l'alto una spinta minore quindi il numero giusto di piombi da utilizzare è relativo alla profondità che si vuole andare se noi stiamo cercando la neutralità per esempio a 10 metri di profondità se ci spingiamo più sotto a 20 metri di profondità avremo una spinta che vince verso il basso se succede qualcosa se non ci sediamo bene in pratica scendiamo giù e non torniamo a galla quindi una cosa da tenere presente sempre per la sicurezza prima di tutto ciao